Documenti e fotografie, insieme naturalmente alle opere d'arte, per raccontare gli anni del fascismo da una prospettiva culturale. Post Zangtum Tum, Art, Life, Politics, Italia 1918-1943, è la mostra che Germano Cielant ha concepito e curato per Fondazione Prada Milano nel 2018 e che è stata premiata ai Global Fine Art Awards a New York come migliore esposizione collettiva dell'anno, tra quelle dedicate al periodo moderno. È una mostra che ha conciso con i nostri tempi, nel senso che è stata una rilettura di un periodo storico dove c'erano molte contraddizioni tra una situazione oppressiva da parte di un punto di vista politico e una situazione sperimentale e culturale degli artisti. Complessa sia come progetto sia per le tematiche affrontate, la mostra milanese ha saputo però trovare un suo sguardo e una sua risonanza nel presente. Penso che questa lettura in parallelo con l'oggi abbia permesso da un punto di vista, chiamiamolo così, americano, di poter premiare questa manifestazione. La cultura americana ha tendenza a leggere sempre la contemporaneità, però è anche interessata alla storia e quindi fondamentalmente una lettura contemporanea sul passato è un contributo internazionale. E per Fondazione Prada, divenuta in pochi anni uno dei punti di riferimento culturali della scena italiana, il premio rappresenta anche una sorta di conferma. Quando si progetta una mostra di qualsiasi tipo, contemporanea o moderna, cerchiamo di confrontarci con il mondo, non con la città, né con la nazione, né con l'Europa, ma con il mondo. E quindi cerchiamo di dare un contributo che sia veramente globale. Grazie. Grazie.